E' ricoverato in prognosi riservati in gravi condizioni di salute un giovane ragazzo di 27 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri in località Bivio di Palomonte. Era notte fonda quando secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il giovane originario del Gambia e residente a Palomonte stava attraversando via Vitolembo in località Bivio di Palomonte a bordo della sua bicicletta quando per causa ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti è stato investito da una macchina guidata da un uomo del posto. Il giovane alla guida della bici è caduto a terra immediato all'arrivo sul posto dei soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale San Francesco d'Assisi di Oleveto Citra. E' stato trasferito nel reparto di rianimazione dove resta ricoverato sotto stretta osservazione medica il lese invece il conducente dell'autovettura. Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Contursi Terme.